Non fraintendetemi, è bello che le parole abbiano un senso e le forfalle abbiano le ali e le persone un lavoro e le nazioni sovrane e la sovranità, il cielo è universale e la bandiera ce la fa con le proprie forze a stagliarci si contro e sostituirlo. Nemmeno lo spazio neutrale dell'arte mette al mondo qualcosa tranne se stesso e solo una volta, da adolescente, aveva voluto morire solo per vedere com'era. Una vita può commuovere molto se non è la propria solo uno spettatore oscurato e un oceano pulsante, mano a mano, ma sullo schermo c'è un corpo o no? I 5 dollari dicono di sì perché l'adrenalina non dovrebbe essere a buon mercato. Lo scultore che fa l'amore con una statua non è meno naturale di un viso che legge uno strumento finanziario. I telai hanno i loro ordini di beccata che se disturbati diventano ordini di marcia al cadere di un guanto di Mylar o all'abbassarsi di una voce già piana. «Intendi colonizzarmi!» ha sussurrato Ansante la costa ricca sulla sua spiaggia nera un giorno l'8 luglio 1987. La cronologia è l'anima della narrativa e la narrativa ci porta dove dovevamo essere se non per le contraddizioni sulle braccia nude della materia prima. Per serbare gli storyboard fedeli al vero e mantenere un minimo di decoro dei servizi esterni in ogni scontro a fuoco e la CIA fu scatenata completamente e fedelmente in una orchestrazione del caso che persino John Cage sarebbe costretto a definire deliberata sotto il busto arcaico dei modelli elettorali e delle abitudini di visione il presente ha lasciato un voto. Dice «moderazione per i pochi che devono uno alla volta cambiare vita, fine per quei polli che cercano di attraversare la strada se così resta fuori l'azione umana come dicono loro agenti non umani e chiamatela semplicemente colorazione protettiva del realismo». Ma una sintassi che bombarda le sue macerie è una sintassi che deve sparire. «Le parole e le armi degli uomini sono state spese generosamente e sono sepolte nel libero mercato. Il dizionario, alla radice di questa generosità, ha l'amore nel cuore e una fattoria in ogni alleato, anche se non è esattamente un dizionario, una fattoria più che altro un covo di piste d'atterraggio e un complesso di taciti accordi, e in più è già sminuzzato, come parole scritte sull'acqua, non è da bere. Non serve essere pedanti e nemmeno usare le parole. Il monumento ha solo una base scolpita in pietra nella carne da un coltello insanguinato, senza manico né lama, più affilato di ogni strategia tranne la fame». «J'essi non se ha stoppita, non so se si comp стали, non so se integraviografie risposta. La sfezione assise 아침 dell'ac